Primi giorni del 2023, primi giorni di un mese di gennaio che contrassegna un cambio di passo nella gestione dei servizi di animali d'affezione nelle comune di Pesaro. Parliamo del canile, così come del gattile sanitario di Santa Veneranda, dove ci troviamo oggi e dove siamo tornati a distanza di alcuni mesi in cui si sono reclamate più volte le esigenze di un servizio più strutturato nella gestione di queste strutture. Ora le volontarie dell'Associazione Animali sono state accontentate nel senso che arriva l'accordo per la gestione di queste strutture da parte di Aspes che dunque andrà a subentrare e a collaborare con le volontarie, questo per dare un futuro più stabile, più garantito per questo tipo di servizi davvero molto complessi. Parliamo di un gattile che ad esempio al giorno attuale ospita più di 90 felini. Dal primo di gennaio la gestione delle strutture gattile e due canili è passata, è di competenza di Aspes, non più del comune e praticamente da noi come associazione animalia traghetteremo la gestione del gattile da qui a quando l'Aspes non farà un bando per l'assegnazione a una nuova gestione in modo di poter dare un futuro ai nostri gatti, cioè della serie che la gestione del gattile è una gestione non semplice perché è un gattile sanitario per cui qui arrivano gatti ammalati, investiti, sono da curare, sono da tenere sotto controllo. Quando inizia la stagione delle nascite, fra parentesi, fra poco perché siamo già a gennaio, a marzo, ricominceranno i cuccioli, per cui i cuccioli da allattare, da svezzare, da far adottare. Ringraziamo Aspes che ci ha dato questa possibilità di continuare per questi mesi per poter mettere giù un progetto insieme. Noi per il momento rimarremo finché Aspes non farà un bando, un bando dove qualcuno prenderà in mano, non dico la gestione, ma la vita quotidiana del gattile. Noi come associazione ci saremo in tutto questo tempo per aiutare, per consigliare, tutto quanto, ma speriamo di esserci anche dopo come supporto, come aiuto, perché il gattile è una struttura molto impegnativa, è una struttura dove si accolgono animali malati, cuccioli bisognosi, quindi ci vuole il consiglio del veterinario, le visite del veterinario che viene ogni settimana, il cambio delle terapie, i farmaci appropriati, il controllo di tutti gli animali che non stanno bene e che quindi vanno valutati un attimo, valutare se chiamare il veterinario oppure non chiamarlo. Quindi noi in 22 anni ne abbiamo fatti di errori tanti sulla pelle dei gatti, si può dire, perché non conoscevamo, non sapevamo fino in fondo. Adesso ci sentiamo abbastanza sicuri per poter supportare chi veramente sarà l'asse portante del gattile.